La Regione Puglia-Shenzen in Cina alvia la collaborazione tra aziende e istituzioni universitarie cinesi e pugliesi. L'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino dichiara Sosteniamo nuove partnership anche nella ricerca tecnologica. Si concretizza la collaborazione tra imprese ed istituzioni universitarie cinesi e pugliesi. Per questo una rappresentanza delle aziende e delle istituzioni universitarie di Shenzhen sarà presto accolta in Puglia per avviare nuove partnership e quanto è emerso durante la seconda giornata della missione istituzionale ed imprenditoriale della Regione Puglia a Shenzhen. La delegazione istituzionale ha incontrato il direttore generale e il presidente di Keanda Electronic azienda leader nella sensoristica dei trasporti ferroviari per discutere delle possibilità di collaborazione con le aziende pugliesi del settore con l'obiettivo di mettere a reciproco servizio il rispettivo know-how. L'assessore regionale allo sviluppo economico Cosimo Borracino, che guida la delegazione istituzionale, ha sottolineato l'impegno del governo regionale nel sostenere i progetti innovativi di ricerca tecnologica nei quali è partner dal punto di vista scientifico il Politecnico di Bari, presente all'incontro in Cina. La presenza della Regione a Shenzhen ha sottolineato l'assessore testimoni all'intenzione di sostenere le aziende pugliesi e favorire i rapporti commerciali con le imprese cinesi. In questo senso, l'attuazione del protocollo sottoscritto a luglio tra Regione Puglia e distretto di Futian consentirà l'organizzazione di incontri anche nell'interesse delle imprese responsabili della gestione delle linee ferroviarie regionali, a sostegno dei necessari investimenti.